Seconda carpa di Raffa, tempo 3 secondi, 2 secondi dopo quell'altra, c'è anche chi guadina, della stessa grandezza Ripartita Sì Eh lo so Vai fagli prendere aria Raffa Oh madonna putt No, vai ora si via sarà il caso da andare via ora bellissima carpa a secchio no è un sudici dimensione giusta per portarla alla terra di frank procediamo al rilascio facciamo la foto a raffa mentre si fa il video codenti è schifo raffa sono schifoso vai il frank non ci so che bene stiamo via via